in tanti ce l'avevano chiesto e noi prontamente li abbiamo soddisfatti e abbiamo portato qui in sala l'IFI Neo Stream messo in verticale a me questa cosa mi fa tanto ridere che questo oggetto che viene fornito con una miriade di accessori è fornito anche con questo clamp con questo supportino che permette di tenerlo in verticale anche leggermente appiccicosetto sotto bravo quando tu lo appoggi sul mobile dopo non si come si dice a Napoli azzecca un po' vedete che è un poco azzecca ma la cosa comica è che il microscopico display tft quando tu lo capovolgi se ne accorge e blu riaggiusta quindi eccezionale poi si vede benissimo da lontano ma specialmente quando tu sei seduto sul punto di ascolto ma è proprio a immediata contezza di quello che sta facendo questo prodotto sì sì bene allora un prodotto particolare di cui potremmo dire tanto bene e tanto male allora io dirò molto bene ma con una cosa che mi ha fatto infuriare anche a me ma proprio infuriare adesso vi diciamo tutto tra poco ma prima andate sul sito www.audio-2g.it.com e poi mettete subscribe e campanella che compariranno ai solidi posti passiamo alla descrizione prodotto talmente tanto pieno carico di cose che ci vorrebbe esagerare comunque va beh allora ifi lo sappiamo sono bravi è un brand inglese se non ricordo male le cui operazioni sono gestite dagli stati uniti e hanno fatto un sacco di prodotti belli bellissimente funzionano molto bene e per tutte le fasce di prezzo tutte le fasce di prezzo intelligentemente hanno voluto andare a coprire una sorta di buco che gli si era creato nel catalogo tra quelli orribili me ne assumo la responsabilità di quello che dico io di plastichetta con quelli che abbiamo provato quelli che abbiamo provato che a me fanno gli zen che a me fanno orrore dal punto di vista estetico ma nulla da dire sul punto dal punto di vista funzionale che costano qualche centinaio di euro e dei prodotti di fascia molto alta che costano solo i 3.000 3.000 e qualcosa questo qui costa 1.200 1.200 circa 1.200 street price street price 1.200 quindi va a coprire quella fascia lì e lo fa aggiungo io grazie al cielo con un cabinet molto più tradizionale se vogliamo con una estetica sempre un po' futuribile sempre un po' si tra l'altro c'è questa manopola incassata da questo pannello in alluminio fresato dal pieno perché sennò un nostro follower giustamente ci tira le orecchie con queste luci lucine lucine va bene insomma un'estetica che evidentemente ha proprio il desiderio di non passare inosservata cosa che mi sembra che i designer della ifi ci tengano particolarmente e dunque che cosa sa fare questo oggetto un sacco di cose fondamentalmente cos'è però fondamentalmente è uno streamer esatto allora cominciamo subito col dire una cosa contrariamente ai prodotti della concorrenza qui ifi ha scelto di non non fare la app di gestione cioè non c'è una ifi app che scaricate no perché in prima istanza questo oggetto ad esempio qui in sala si è collegato via run perché perché run compatible quindi run lo ha visto e via e quindi a quel punto tu non hai nessunissimo bisogno di l e la andare tanto quanto funziona perfettamente con m connect o con kazoo quindi lo puoi gestire pilotare mediante questo tipo di applicazione quindi evidentemente loro hanno fatto il ragionamento di dire sai che c'è chi se ne frega della app perché tanto e ne sono talmente tante già fatte che non ho bisogno di farne una io esattamente ma questo però giulio lo scopriremo più avanti significa anche un'altra cosa ma questo significa anche un'altra cosa o e seconda faccenda dal punto di vista della dotazione dei collegamenti e della dotazione allora mi preme subito fare una piccola e dai complimenti a questi signori di rifi lo fai vedere lì allora loro inseriscono nella scatola questo coso che si chiama optibox optibox te lo confermo optibox allora questo optibox che cos'è è un transceiver in fibra ottica attenzione fibra ottica non è toslink ok è uno standard che si usa che funziona esattamente come l'ethernet soltanto che invece di essere sul rame è su fibra e questo ha un po' eccitato giulio gli è piaciuto particolarmente è piaciuto particolarmente perché qui dentro io le dorsali ce le ho in fibra siccome è un edificio molto antico e quindi avevo necessità di coprire lunghe tratte lunghe tratte significa che mi avvicinavo ai 90 metri che è il limite teorico dell'internet sul rame quindi il collegamento in fibra ottica viaggia tranquillamente credo per chilometri perché però c'è da dire che non è che migliora la qualità aiuta a fare il collegamento ethernet perché è un prende l'ethernet in ingresso in uscita diventa fibra ottica e quindi con quella fibra ottica in uscita si possono percorrere chilometri ma non è che cambia la velocità la velocità allora c'è in più e di diverso una cosa cioè che c'è l'isolamento galvanico esatto quindi non c'è rame rame essendo la trasmissione ottica c'è l'isolamento galvanico che può dare qualcosina in più ora torniamo al leafy loro che cosa fanno fanno questa cosa e ti dicono guarda quanto siamo bravi te lo abbiamo regalato ora è un è un regalino se voi andate su amazon un transceiver in fibra diciamo rame così lo pagate nell'intorno di 35 35 euro insomma e tra l'altro c'è pure un problema che deve essere alimentato quindi questo coso viene alimentato attraverso un alimentatorino da caricabatterie usb che potrebbe anche minare l'affidabilità del prodotto però comunque lo apprezziamo interessante che accanto a questo tipo di collegamento in fibra ottica c'è comunque la porta ethernet tradizionale rame e c'è comunque il wifi quindi lato collegamenti potete fare quello che volete perché sicuramente si collegherà da qualche paio assolutamente interessante anche a livello di uscita analogica perché essendo il prodotto un prodotto completamente bilanciato ha la possibilità di uscire in bilanciato su connettore xlr ma come visto che non c'era posto attraverso un collegamento con mini jack da 4,4 mm a 4 poli per esempio lo usa la astellen kern e quindi ci vuole un adattatore da 4,4 mm a xlr maschio femmina non lo so non lo so anche perché quello non te lo danno a fronte del fatto che ti danno quell'aggeggio ottimo però potrei dire una cosa una piccola critica io avrei preferito l'adattatore piuttosto che questo scatolotto però questo anche perché non è facile trovarlo questo adattatore 4 e 4 xlr mentre invece lo scatolotto magari non così carino con scritto ifi te lo tirano appresso da ovunque vuoi va bene e altre cose a livello di uscite e c'è ovviamente c'è di tutto noi in questo momento lo stiamo facendo andare con una interfaccia legacy mi si passi il termine come parla bene sì c'è l'interfaccia asebu che si collega direttamente all'acqua alla scala mk2 ma potrebbe farlo anche lui potrebbe farlo anche lui perché lui comunque esce anche in analogico e all'interno c'è dei chip bur brown c'è sono dei chip bur brown quindi questi signori si tirano fuori dalla diatriba asaki casei piuttosto che sabre che sabre e ci mettono i bur brown e in una configurazione 4 2 2 quindi non male una configurazione avanzata bilanciata poi lo diremo in sala d'ascolto assolutamente c'è qualcosa che non va però allora c'è qualcosa che non va lo dico subito allora intanto la documentazione che accompagna questo prodotto è una di quelle documentazioni alla avrei voluto essere apple ma non sono stato così bravo cioè quando i manuali sono così stringati così stringati da essere ridotti a due paginette con una macchina così complessa non si capisce niente e insomma non mi reputo uno particolarmente intelligente però non fosse altro sono tanti anni che combatto con questa roba francamente fare tutto attraverso questo bottoncino e il knob qui e per riuscire ad arrivare alla modalità che loro consigliano che si chiamano a io all in one ci ho messo un bel pezzo e questo devo dire è stato abbastanza scomodo c'è c'è l'interfaccia web cioè ci si può collegare via ip ma 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 c'è stata la sorpresa la sorpresona la sorpresona perché loro ti dicono sì c'è un'interfaccia web quindi tu vai sul tuo browser schiacci ifi.local oppure lui è gentilissimo ti mette l'ip che si è preso quindi tu digiti l'ip che si è preso ammesso che stai sotto un server di hcp ma insomma non è lì a me caro giulio mi ha preso un colpo perché io come ho fatto l'indirizzo ip ho detto io abbiamo detto ma se ci siamo sbagliati abbiamo beccato l'altro server certo che gira sotto volumio poi andiamo a guardare bene l'ip e no era proprio l'ip di questo poi abbiamo fatto ifi.local ed esce fuori una brutta interfaccia di volumio orrenda interfaccia di volumio allora vogliamo dire che cosa è successo beh diciamo che io ho telefonato a michelangelo guarisse che è un amico nostro e gli ho detto michelangelo e michelangelo è il patron di volumio nonché il il papà di quel sistema operativo e gli abbiamo chiesto ma tu per caso hai fatto anche l'interfaccia di ifi e lui che cosa ci ha risposto giulio allora non so se si può svelare quest'altarino forse diciamo siccome c'è una causa legale in corso esatto quindi forse è meglio rimanere un po' distanti e niente michelangelo ci ha spiegato che questi signori hanno fatto un'operazione di reverse engineering e sostanzialmente si sono appropriati in modo fantasioso in debito e anche un po' fantasioso di volumio quindi attraverso questa brutta versione di volumio voi potete accedere alla macchina la potete comandare potete fargli fare alcune cose ad esempio gli potete far vedere visto che è compatibile upnp i nas che in questo momento abbiamo qui che escono con minim server e quindi gli potete far vedere dei server upnp e farli riprodurre li potete far fare alcune delle cose che fa volumio però ad esempio l'architettura di volumio che è un'architettura plug in non è stata integrata quindi immaginatemelo come un volumio zoppo anche perché non è compatibile nativamente con coboots e però è nati allora coboots non lo fa ma fa nativamente title connect sì solamente da raccoglie ma non non tra dal diretto quindi io non mi posso loggare direttamente su title ma col connect con le cose e di title connect è in grado di fare la decodifica mqa ammesso che diciamo ci sia qualcuno che ancora particolarmente interessato affezionato alla cosa alla cosa e ecco diciamo questa francamente io l'ho trovata una caduta di stile no che non mi è piaciuta anche perché indipendentemente da volumio e dal software è una macchina dal punto di vista hardware veramente costruita bene poi poi lo vedremo nello sventramento che sicuramente mi affascinerà particolarmente e tutta questa perfetta ingegnerizzazione e progettazione della macchina poi non corrisponde con una parte software che sembra proprio di mancare dei fondamentali ecco soprattutto oggi perché poi questa sorta di versione di volume è anche vecchia e sì quindi insomma ecco da questo punto di vista onestamente la faccenda non mi è piaciuta però poi tolto questo ripeto utilizzato come endpoint rune ad esempio nulla da dire ha funzionato si funziona funziona molto bene suona bene suona molto bene suona molto bene diciamo anche qui perché sennò poi diamo sempre adito al pensiero che ci siano i famosi ammazza giganti io l'ho trovato un eccellente streamer eccellente streamer in combinazione con un dac esterno la sua uscita analogica è discreta è discreta è discreta allora per quanto attiene all'uscita analogica quindi utilizzato come pre che si collega direttamente a un finale o a dei diffusori attivi li dovete ricalibrare le vostre attese su un prodotto da 1200 euro esattamente tra l'altro non ha una una tensione di uscita particolarmente alta quindi reale per cui se poi dovete collegarci un finale direttamente io ci starei un po attento quello che va notato e quale bisogna dare un plauso è l'alimentatore che è vero che è un alimentatore a parete di quelli però è di quello è il top della produzione della ifi ed è un alimentatorino che viene venduto anche separatamente da ifi e solo quello mi pare che costa 110 120 euro quindi ripeto dentro la scatola c'è proprio ogni ben di dio a parte l'adattatore xlr che manca però c'è veramente tanta roba buona ben fatta e interessante io lo voglio sventrare vai ti dico quindi scolleghiamolo e andiamo al tavolo della apertura questo ifi neostream cari falla è costruito veramente bene parte il telaio in alluminio aspetta vediamolo vediamo un po meglio ma qui ci sono anche le queste crocette che servono per mettere il la staffa per a ok ok che ci hanno i punti di riferimento su dove mettere la staffa per quella è una ditata ok questo è il pannello frontale fresato dal pieno è stato al pieno qui possiamo vedere il grosso leddone che c'è davanti che si vede qui che non ci sono flat mostruosamente complicati da rimettere no assolutamente facilissimo da sistemare notare questa bella bellissima rifinitura che c'è sulla sulla manopola e questo è anche piuttosto pesante lo mettiamo a posto e questo invece l'hardware alimentatore ci avviciniamo ok alimentatore di eccellente livello ecco qua questa sezione qui ok poi tutta la sezione gigabit ethernet è questa e infatti fa capo a questa splendida interfaccia che abbiamo avuto modo e avremo modo di sottolineare sconosciuta sconosciuta ai più ai più quanto meno noi che si chiama m 12 facciamo vedere anche il connettore delle m 12 appena nel frattempo mi sono andato a documentare mi sono ricordato di chi la implementava sì ma è la stessa con una rarità ok in assoluta capovolgico così si vede il lettering non ho capovolgico scusate scusate giusto quindi il connettore dell'alimentazione può essere da 9 volt 3 ampere a 12 volt 2 a 15 volt 2 ampere l'emme 12 eccezionalmente utile rg 45 l'ottico con il tappo ecco qui quello che abbiamo usato noi poi un usb c per il system grade esatto questo che serve per gli hard disk esterni questo invece serve per metterci il dac perché è filtrato opportunamente filtrato a tra l'altro di facciamolo vedere la tecnologia i purifier di ifi è a bordo della sezione delle uscite purifier poi qui abbiamo il quadro s piedi natura sconosciuta però si uscita bilanciata col jack da 4,4 di cui abbiamo già avuto modo e avremo modo di discutere left right sbilanciato qualsiale ottico as e bu e questa è per l'antennina wifi non mi piace tanto ma lo spazio quello che è la con presenza di digitale 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 analogico va bene allora va bene poi qui abbiamo la scheda di elaborazione che è messa su uno zoccolo sodin e infatti trick si può togliere ancora qui la facciamo vedere fatta molto bene capoggiamola per favore ok quindi sembra un connettore anzi è un connettore da ram ma fondamentalmente ci va dentro nella scheda di elaborazione sotto c'è il clock ci dovrebbe essere scritto eccolo qua gmt clock system logica ok questa è incassata come tu infatti hai sottolineato non piace molto neanche a me la parte analogica in mezzo alle uscite digitali o e poi se ci spingiamo con la telecamera c'è scritto native dsd pcm bur brown dac che sta sotto che sta sotto se lo vogliamo far vedere certo eccolo qua e dovrebbero esserne due l'altro dovrebbe stare dall'altra parte ma non sono riuscito con gli occhi a vederlo va bene per una questione di occhiali come tu ben ti puoi immaginare qua c'è un giga dissipatore e questo fa capo a link agli ingressi gigabit quindi ci sarà sicuramente sotto un chip di quelli che lavora a frequenze altissime quindi ha bisogno di una dissipazione questa volta per ricapovolgiamo a interessante l'unica cosa questa qui che sono i due contatti in rame a molla della massa del pcb principale rispetto al altrimenti sono a molla sì sì sono a molla ecco qua quindi quando lo metti inserito dentro al cabinet si schiacciano li devi schiacciare in modo da farli entrare e così tengono sempre perfettamente ok ricapovolgiamo facciamo così in modo che i nostri fai lavorano possono vedere meglio quindi sinceramente una costruzione hardware volendo molto sintetizzare davvero buona davvero eccellente anche i circuiti stampati sono a sei strati placca di oro insomma è veramente una una realizzazione degna di nota va bene per 1200 euro non capita spesso di vedere una cosa del genere o questo qui immagino vicino alla tua mano sarà la sezione del del wifi del wifi si la sezione radio del wifi e questa o non c'è bluetooth su questo non c'è bluetooth su questo dispositivo non c'è bluetooth e se non mi sbaglio non funge neanche da amplificatore cuffie bravissimo esatto e quindi questa cosa ne preclude per me l'acquisto spiritoso tu che sei un grande fruitore delle cuffie ma come potrei assolutamente va bene peccato peccato sì eh sì va bene passiamo al riassemblaggio e agli ascolti ciao ciao ho preso la serie del comando e hai fatto bene ecco comodo eh sì 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 è comodo dunque che dire di questo streamer che funziona bene ho l'impressione però di dover dire un paio di cose allora e dal punto di vista della utilizzabilità si è visto di meglio io direi molto di meglio sinceramente soprattutto nel 2023 ecco cioè voglio dire che questa è una macchina che dà per presupposto il fatto che l'utilizzatore sia al corrente di tutta una serie di cose che non è affatto detto per quella che è la nostra esperienza che come dire le condizioni siano queste esatto cioè a noi ci capita tanta gente che ci chiede che cos'è l'ethernet che cos'è il wifi che vuol dire ip perché non si è preso rip c'è questa è una macchina dove hai una documentazione sostanzialmente inesistente e quindi te la devi saper cavare da te o dovresti essere supportato da un rivenditore che lo sa fare che lo sa fare allora non vogliamo essere snob quindi ci dobbiamo mettere ci vogliamo mettere nei panni della buona parte degli audiofili che non sono degli esperti di informatica e se le ultimissime macchine sono quindi non questa sono molto di più plug and play di quanto non erano prima questa mi sembra ferma a quattro o cinque anni fa dal punto di vista del capire come e cercare di configurare poi una volta che l'hai fatto funziona e funziona anche bene però è un pochetto farraginosa e poi c'è un altro aspetto che è quello relativo alla documentazione voglio dire nessuno tranne il sottoscritto ama leggere i manuali io mi piace tanto il manuale la letteratura proprio del manuale mi piace tanto però tipicamente la gente detesta i manuali li lascia dentro le scatole non se li legge però il manuale ti mette come produttore nella condizione di dire oh ma io lo strumento per capire come funziona te l'avevo dato ecco qui non è così nel senso che qui il manuale è due fogliolini che mi permetto di far vedere cioè due fogliolini 2 1 e 2 ecco dove non le capisci le cose mi preme dire il fatto che io e te abbiamo una certa esperienza non voglio dire che siamo né i più bravi né più nei meno bravi ma ci abbiamo faticato un po prima di riuscire a venirne a capo quindi ecco ad esempio il prima lo abbiamo detto no ci sono diverse possibilità di collegamento in rete il wifi che è quella che tutti utilizzano abitualmente l'ethernet che non tutti la utilizzano ma almeno sanno che cos'è l'ottico che è abbastanza una rarità ma qua non viene spiegato e poi c'è un bizzarro m12 abbiamo scoperto essere un adattatore da ethernet a m12 che è uno standard di collegamento industriale per l'eternet adesso faccio lo dico pubblicamente io ignoravo che cosa fosse collegamento m12 fino a quando non mi è capitato però ufficialmente voglio fare una domanda a ifi non era meglio sfruttare quello spazio per metterci due mini xlr di uscita piuttosto che un ingresso m12 che quasi tutto il mondo non sa cosa che era punto interrogativo punto interrogativo a bellissima anche nel display c'è una icona di due catenelle ma due mandi di una catena agganciate sicuramente ci sarà qualcun utente che mi dirà sei cretino è una cosa ovvia siamo e io non l'ho capito e quindi ecco dal punto di vista ripeto di l'interfaccia utente così mi ha lasciato un po perplesso dal punto di vista del funzionamento io direi che è una macchina eccellente funziona perfettamente fa quello che deve fare lo fa in maniera ottima ripeto quello che ho detto nella nella intro e il l'uscita analogica è quella di una macchina non di fascia bassa ma neanche di una macchina che come che possa essere considerata definitiva guarda io lo conto quasi lo considero non tanto uno streamer ma quasi un endpoint nel senso che come interfaccia finale potrebbe essere di run funziona benissimo se gli devi andare a chiedere qualcosa che dipende dal suo software è meglio di no o c'è piaciuto e obiettivamente ha funzionato così al volo è open tidal open tidal che significa cosa che se la macchina è configurata in modalità open tidal la app di tidal dal cellulare ad esempio lo vede subito manda lo stream e a quel punto tu hai lui che riproduce il flusso dati proveniente da tidal e non dal telefono esatto un po come spotify connect come spotify cioè il telefono fa da telecomando dopodiché puoi pure chiudere l'app e lui continua a suonare allegramente allegramente e quello ha funzionato si è caricato la copertina diciamo da quel punto di vista il tutto si è svolto in maniera proprio ineccepibile e quindi da questo punto di vista ci è piaciuto così come mi è piaciuto il funzionamento in modalità di lna che si è rilevato particolarmente efficace e allora quindi per fare una come dire un recap finale direi eccellente hardware eccellente prestazione lato software così non mancato software indipendentemente da quelle faccende a cui abbiamo accennato ci sarebbe da lavorare moltissimo molto davvero tanto perché un prodotto così nel 2023 sinceramente lascia molto 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 a desiderio anche perché per cifre inferiori si trovano macchine che dal punto di vista software mi vengono in mente quelle ultime scatolette che ti ho portato le le wim le wim che dal punto di vista del suono indubbiamente non c'è paragone vanno molto peggio anche se poi ci puoi mettere un duck esterno ma dal punto di vista del software gli fanno 50 giri intorno e stiamo parlando di 100 euro e 150 e 150 quindi cari amici della ifi avete fatto un hardware bellissimo ma dal punto di vista software avete ancora da pedalare parecchi chilometri ecco va bene grazie ancora una volta per averci seguito se avete trovato il video interessante fate click su subscribe seguiteci sul nostro sito web www.audio-2g.com o.it subscribe campanella e fa dei bravi alla prossima ciao